Finché sarò il sindaco di Andria non ci sarà una nuova discarica su questo territorio e la presa di posizione del primo cittadino Nicola Giorgino che, ascoltate le dichiarazioni dell'assessore all'ambiente Gianni Stea, rilasciate al nostro microfono questa mattina, le giudica non comprensibili. Il Comune ha concordato con la Regione la bonifica, non l'utilizzo come discarica di rifiuti solidi urbani. Acqua sul fuoco la getta invece il consigliere regionale di maggioranza Sabino Zinni che ha spiegato come non vi sia un automatismo tra la bonifica della discarica di inerti e la sua trasformazione in discarica di rifiuti solidi urbani. Il 3 dicembre scorso gli organismi preposti della Regione Puglia insieme con gli organismi preposti della città di Andria e della provincia BAT hanno fatto una conferenza di servizi in cui hanno detto con certezza una cosa, quella discarica va chiusa perché siamo sotto infrazione comunitaria. Questa è l'unica certezza, dopo questa certezza si è aperta una eventualità, quella discarica ha potenzialità volumetriche residue, quindi non si sta parlando di nuove discariche ma si sta parlando al più di una discarica che aveva già in sé insita la possibilità di altre volumetrie da addensare che non sono state sfruttate. Grazie a tutti.